Salve amici siamo alla terza puntata di Aesthetic Summer News. Oggi di cosa parleremo? Abbiamo parlato del viso, abbiamo parlato di come invecchia, abbiamo visto e accennato alle cellule staminali, spiegato cosa sono queste cellule staminali, ma se vi ricordate nella prima puntata vi parlavo anche di fattori di crescita. Bene, dove sono questi fattori di crescita e a cosa servono? Nel nostro organismo i fattori di crescita si trovano prevalentemente all'interno di piccole cellule che si trovano all'interno del nostro sangue, che sono le piastrine. Queste piastrine all'interno sono ricchissime di fattori di crescita. Le piastrine a contatto con determinate sostanze, con i tessuti biologici, si dice degranulano, cioè liberano questi importantissimi fattori di crescita. Si è visto che questi fattori di crescita hanno un'importanza fondamentale nella rigenerazione dei tessuti, nel controllo dell'infiammazione, in chirurgia anche nel controllo degli ematomi e dei sanguinamenti ovviamente, ma quando si utilizzano insieme alle cellule staminali, quelli di cui abbiamo parlato, i famosi preadipociti estati dal tessuto adiposo, danno un'azione benefica sulle cellule staminali, ovvero stimolano la loro proliferazione e la loro maturazione in cellule mature. Ecco quindi che in tutti quelli che sono i trattamenti di ringiovanimento naturale, rigenerativo del volto, dell'acute dei tessuti, l'associazione di cellule staminali e di fattori di crescita è fondamentale. Ecco modificata, viene presa in grande considerazione l'utilizzo dei fattori di crescita di origine piastrinica per stimolare la maturazione delle cellule staminali. Questi fattori di crescita li troviamo in quello che viene chiamato il PRP, ne avrete sentito parlare molte volte, le cosiddette terapie col PRP. PRP sta per plasma ricco di piastrine, ovvero attraverso una procedura eseguita spesso all'interno dei centri trasfusionali. Cosa viene infatti? Vengono estratte la parte, la frazione ricca di piastrine del plasma e quindi poi, come vi ho spiegato prima, viene sfruttata tutta quella che sono i fattori di crescita all'interno delle piastrine stesse. Come sempre terminiamo la nostra puntata con un accenno a slow fit, questa nuova filosofia di fitness che sto promuovendo e che sto portando avanti per aiutare le persone a sentirsi meglio facendo meno fatica ma soprattutto migliorando quello che sono le abitudini e l'igiene di vita. Abbiamo parlato della respirazione come prima cosa, l'importanza della respirazione, l'importanza del controllo della respirazione. Questo non solo perché fa stare meglio, ma ieri vi ho accennato che il respirare fa dimagrire. Esattamente. Noi sappiamo che lo stress cronico delle persone porta a un aumento di una sostanza che si chiama cortisolo. Questo cortisolo è un ormone glicemizzante, ovvero cambia il metabolismo della persona facendola ingrassare. Quindi lo stress cronico, quello di tutti i giorni, è quello che determina una diminuzione del metabolismo e quindi un accumulo di tessuto adiposo. Imparare a respirare aiutando a controllare lo stress e a diminuire lo stress determina una diminuzione di cortisolo circolante e quindi ecco perché respirare fa dimagrire. Ricordatevelo, domani andremo avanti con slow fit e parleremo del tempo, un'altra parte importantissima nella filosofia di slow fit. A domani, ciao!